Ciao, qui Danilo Maruca di Diritto alla Meta.it e in questo video parliamo dell'importanza di dominare i propri pensieri. Molti anni fa Marshall Turber, socio di una delle più potenti società immobiliari di San Francisco, ha raccontato di un esperimento che ha avuto un profondo impatto sul suo staff e al riguardo Marshall disse C'è stata una singola regola che ha trasformato subito tutta la mia organizzazione. Essa si è sviluppata a partire da una riunione settimanale in cui pressi un libro e iniziai a leggere le seguenti frasi. La gente deve essere responsabile dei propri pensieri, pertanto deve imparare a dominarli. Non è facile ma non è nemmeno impossibile. Prima di tutto, se non vogliamo pensare a determinate cose non dovremmo nemmeno parlarne, quindi non dobbiamo dire determinate cose che non vogliamo pensare. Non siamo tenuti a mangiare tutto quello che vediamo, così come non dobbiamo dire tutto quello che pensiamo. Dunque dobbiamo iniziare a pensare a quello che diciamo e a parlare solo per uno scopo utile. Dopo aver letto questo brano tutti i membri della società hanno convenuto che avrebbero parlato solo per uno scopo utile, il che significava che se non serve non bisogna dirlo. In base a questa politica adottata erano tutti d'accordo che chiunque avesse violato questa regola, di parlare per uno scopo utile, avrebbe versato due dollari in una ciotola dell'ufficio. Alla fine del mese i soldi nella ciotola sarebbero stati destinati a enti di beneficenza. Il semplice gesto di mettere due dollari in una ciotola è stata un'esperienza che ha cambiato radicalmente l'atteggiamento di tutto l'ufficio. La sfida era questa ed è quella che propongo anche a te. Scegli con cura le tue parole. Parla solo per uno scopo utile. Se non serve, non dire nulla. Se ti sorprendi a dire cose che non hanno alcun valore e che non servono, metti due euro in una ciotola e poi osserva i risultati sulla tua vita. Ciò che impedisce la maggior parte delle persone dal riuscire a raggiungere quelli che sono i loro obiettivi è il loro dialogo interno negativo. Il dialogo interno va gestito. Molte persone hanno una voce interiore che le incoraggia, specialmente quando fanno qualcosa di positivo. Ed è come se si trattasse di avere un personale tifoso che ci supporta ogni volta che ci serve. Con frasi del tipo puoi farcela, se ti impegni ce la farai sicuramente, vai continua così. Questo dialogo interno è utile ed è produttivo per raggiungere quelli che sono i tuoi obiettivi, quindi devi prendere queste frasi e farle diventare un'abitudine. Ma la maggior parte delle persone invece ha un dialogo interno negativo e limitante. Una voce scettica gli sussurra continuamente. Ma chi credi di essere? Non puoi farcela. Ma che idiota che sei? Non sei capace di fare nulla. Sei proprio una persona stupida. Molte volte, senza che ce ne rendiamo conto, questa voce scettica ci allontana dai nostri sogni, ci allontana dall'esprimere quello che è il nostro reale potere. Per esempio, magari ti viene un'idea grandiosa e subito quella voce sfreccia nella tua mente e ti dice sì, ma non lo puoi fare perché, seguita da una ragione stupida che però ti impedisce davvero di fare delle azioni concrete e ricordati sempre che la vita premia l'azione. Se lasci che i tuoi pensieri agiscano incontrollati, possono provocarti ansia, paura, dubbi e possono limitarti enormemente. Un esercizio che puoi applicare per iniziare a gestire quelli che sono i tuoi pensieri è quello di acquistare un braccialetto oppure un elastico. L'elastico è più adatto. Metti l'elastico su un polso e dopodiché ogni volta che ti scopri a pensare qualcosa di negativo, tiri l'elastico contro il tuo polso. Questo ti procurerà un piccolo dolore, però in questo modo interromperà il processo di pensieri negativi. Ogni volta che ti scopri a pensare cose del tipo non posso permettermelo, va oltre le mie possibilità, non sono abbastanza bravo ma chi mi credo di essere, non me lo merito, non sono capace di farlo oppure non ho le conoscenze giuste, prendi questo elastico e tiralo il più forte che puoi. E poi quello che devi fare appena te ne rendi conto è sostituire questi tipi di pensieri con pensieri che sono più utili e più produttivi per te. Inizia a sostituire il tuo dialogo interiore con parole come queste. Sono abbastanza in gamba per riuscire a raggiungere qualunque desiderio ho. Sono capace di farlo, me lo merito, credo in me, sono bravo, posso farcela, sono sicuro di trasformare i miei sogni in realtà. Ho un potere enorme dentro di me, quindi posso realizzare qualunque cosa desidero. Questa tecnica è molto semplice. Tieni al polso l'elastico 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana per i prossimi 30 giorni, anche quando sei a letto o mentre fai la doccia. Quando poi il tuo polso sinistro avrà un bel segno rosso, comincerai velocemente a cambiare atteggiamento e potrai spostare l'elastico sul polso destro. I tuoi pensieri hanno il potere di maledire o di benedire. Ti possono portare all'abbondanza, alla piena realizzazione di quelle che sono le tue qualità e competenze oppure possono limitarti, perciò vanno gestiti. Sta a te scegliere se subire il tuo dialogo interno oppure se dominarlo e puoi dominare i tuoi pensieri. È una cosa che comporta uno spreco di energia, è una cosa che non è semplicissima da fare, però è un qualcosa di assolutamente fondamentale. Il tuo modo di pensare domina le tue azioni e le tue azioni producono quelli che sono i tuoi risultati. Se tu vuoi andare a cambiare o modificare i risultati che stai ottenendo oggi nella tua vita, devi per prima cosa modificare il tuo dialogo interno e devi gestire i tuoi pensieri anziché subirli. Ricordati che la nostra mente è paragonabile ad un iceberg. La parte che emerge dall'acqua corrisponde al 5% ed è la nostra mente conscia, mentre la parte sommersa dall'acqua, quindi il 95%, rappresenta il nostro inconscio. È evidente che se il vento spingerà l'iceberg in una direzione, mentre la corrente lo farà nella direzione opposta, sarà la parte sommersa, quindi l'inconscio, a determinare lo spostamento. Allo stesso modo, se la nostra mente conscia vuole ottenere un determinato risultato, mentre quella inconscia, per qualunque tipo di ragioni, non vuole la stessa cosa, la nostra parte conscia, ossia la volontà, alla lunga non ce la farà mai ad avere la meglio. La mente conscia metterà in atto qualunque tipo di autosabotaggio per evitare di farci avere ciò che inconsciamente non vogliamo. Ti è mai capitato, per esempio, di voler ottenere qualcosa, ma poi di esserti reso conto che tu sei il tuo peggior nemico nei confronti del raggiungimento di quell'obiettivo? Nell'ambito, per esempio, della salute e della vitalità, il modo più comune con la quale sabotiamo noi stessi è quello di non fare ciò che sappiamo che dovremmo fare. Sappiamo ciò che è giusto, ma non lo facciamo. E ci sono una quantità di autosabotaggi veramente incredibili. Ora, per iniziare ad evitare gli autosabotaggi, per evitare che la tua mente ne produca di altri, la prima cosa che devi fare è gestire il tuo dialogo interiore. Ogni volta che c'è un autosabotaggio, la causa va ricercata nel tuo inconscio e in ciò che realmente crede il 95% di te. In particolare, vuol dire che ci sono delle convinzioni limitanti. Quando pensi al voler raggiungere un determinato obiettivo e la tua mente inizia a dirti cose del tipo non puoi farcela, è troppo difficile, sei troppo pigro, sei troppo così, sei troppo colà, non illuderti, non ce la farai mai. Questo vuol dire che a breve andrai a creare degli autosabotaggi e che fino a quando non vai a modificare il contenuto del tuo inconscio, i tuoi pensieri, il tuo dialogo interno non ti sosterranno mai. Avere un obiettivo da voler raggiungere è una cosa sacra, ottimo, ma poi se non sei convinto di poterlo raggiungere, creerai degli autosabotaggi. Ma come fai a convincerti che puoi realmente raggiungere un determinato obiettivo? Questo lo si fa dominando i propri pensieri, ma soprattutto grazie al potere della riprogrammazione mentale. Devi andare a ricondizionare e riprogrammare il tuo inconscio. In questo modo tutta la sua incredibile potenza ed energia potrai utilizzarla a tuo favore invece che subirla come se fosse un tuo nemico. Quindi devi farti alleato la parte più profonda di te stesso. Considera che tutto ciò che tu credi sia possibile o impossibile lo diventa realmente per te. Ma quello che devi tenere a mente è che poiché le convinzioni si creano in base a dei riferimenti. Tu puoi creare dei riferimenti specifici di ciò che vuoi per andare a sopportare delle nuove credenze potenzianti che tu vuoi andare ad alimentare. Tu hai tutto il potere per creare delle nuove convinzioni potenzianti e poi di andare a trovare dei riferimenti molto forti in maniera tale che il tuo inconscio reputi vere queste nuove convinzioni che tu vuoi adottare. Se desideri apprendere il metodo completo per riprogrammare la tua mente inconscia in maniera tale da andare ad eliminare gli autosabotaggi e in maniera tale da iniziare ad utilizzare l'enorme potere dei tuoi pensieri a tuo favore, ti conviene candidarti alle mie sessioni di coaching perché apprenderai il metodo completo per riprogrammare la tua mente e raggiungere obiettivi che fino adesso credi siano impossibile da raggiungere. Bene, per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!